Degrado, sporcizia, strade dissestate e pulizia del verde completamente assente. Ecco come si presenta la situazione in via Martiri di Via Fani, proprio di fronte al liceo Volta a Foggia, un quadro che viene delineato da uno dei residenti della zona, stanchi ormai di vivere in una situazione di completo abbandono e sporcizia. Scrivono alla nostra redazione per evidenziare uno stato pietoso delle cose, una situazione di degrado e di abbandono nella quale versa il tratto di strada ormai da troppo tempo, troppi anni, siamo completamente al buio e manca anche il servizio di pulizia del verde che ormai non esiste più, scrivono i residenti, in quanto alcuni alberi sono secchi e non sono stati mai ripiantati e poi lo stato delle strade completamente dissestate, anche la rotatoria che porta al policlinico è completamente al buio, dicono proprio in quel tratto di strada dove passano ogni giorno decine di ambulanze che portano in ospedale, è un tratto di strada impercorribile a causa delle buche che sono voragine o del dissesto del manto stradale, ambulanze che hanno un'enorme difficoltà ad arrivare all'ospedale foggiano, così come i tanti automobilisti che ogni giorno transitano per quel tratto di strada, una situazione che diventa davvero insostenibile, una denuncia che si ripete nel tempo, non è la prima volta che i residenti di quella zona chiedono un intervento immediato al comune di Foggia affinché possa ripristinare la situazione alla normalità e soprattutto alla sicurezza degli autisti, degli automobilisti, dei pedoni e soprattutto dei residenti che in quella zona pagano le tasse. Per questo i cittadini e residenti di quel tratto, nello specifico di Via Martiri e di Via Fani, chiedono che presto possano esserci degli interventi che vadano a migliorare la situazione denunciata. Grazie.